Yugi a tutti duellanti ben ritrovati sul canale. Oggi siamo qui nuovamente con Luca con ovviamente la Declis aggiornata di Purely con i nuovi supporti di Nune. Ovviamente ragazzi però prima di iniziare vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da Jackstar, il mio sponsor per l'acquisto di prodotti coreani. Trovate il mio referral link e il codice sconto qua sotto in descrizione. Inoltre se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokemon e One Piece trovate il link del mio Instagram sempre qua sotto. Contattatevi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare. Detto questo e niente, vada. Allora ovviamente per ovvi motivi si gioca se per di Purely, non avreste mai detto vero? La base, no l'altezza è Purely, la base del mazzo. Su Normalo Special di sotterra tre carte del mazzo, se hai una carta maggiore trappola Purely ve l'ha dato alla mano. Poi può fare Xyz utilizzando come altro materiale una magia che avete in mano e a seconda della magia che utilizzate fa un Xyz diverso. Due Purely la sto testando a due per ora, non mi sta dispiacendo, potrei ovviamente mandarla a tre, beh molto più standard giocarla a tre. Ad ora a due non mi stanno dispiacendo, per quanto sembra assurdo avere sei normali del mazzo per più volte mi ha fatto briccare. Cinque per ora mi sto trovando meglio, sempre nel limite di quanto Purely possa briccare è veramente difficile, però avere tre normali in mano è un discreto palo. Tre pritti, questa è la magia che vi fa fare il tipo che fa impermanence, Mixies che fa impermanence. Tutte le magie Purely rapide hanno un effetto in comune, ovvero fanno una cosa, ognuna fa una cosa diversa, poi scartate una e potete specialare un Purely da mazzo. Questa cosa fa? Questa vi fa guadagnare a voi e al vostro avversario del mille draft point. Poi scartate una e potete specialare da mazzo e tutte le magie hanno un altro effetto che danno agli Xyz quando sono attaccate. Questa vi fa mandare una carta che controllate dal terreno al cimitero per attaccarvi una carta sul terreno dell'avversario. Target attaccata sul terreno dell'avversario e ve la attaccate con il materiale. Tre per di Sleepy, che finalmente ha un target per Xyzare, non potete capire quanto sono contento. Questa cosa qui non vi fa prendere danno da battaglia o d'effetto per la prossima volta durante questo turno. Poi scartate uno specialare da mazzo e quando è attaccato a un mostro Purely, durante la Stimmy Phase del vostro avversario, pescate uno. E' importante sottolineare che l'effetto è Soft Once, che vuol dire che se avete due di questi sotto a un Xyz, pescate due. Se ne avete tre, pescate tre. Se avete tre di queste con la trappola vecchia, pescate sei. Tre per di Happy. Questa target attaccata sul terreno e fino alla fine del turno successivo che è stata attivata non può essere distrutta da effetto una volta. Importante dire che l'effetto è tutto in reso. Se voi attivate questa non dovete dare target di cosa non verrà distrutto. Dovete dirglielo quando è in reso. Scartate uno specialare della deck e quando è attaccata sotto a un Purely fa fare un attacco in più su mostro per ciascuna. Quindi se ne avete due attaccate il mostro può fare tre attacchi su mostro. Tristemente la carta limitata, delicious. Dico triste perché... Allora, con i supporti il mazzo si è ripreso tranquillamente, ma finora non mi piaceva per niente come era dopo la banalist. Questa targettiamo sul terreno, quel mostro non può essere distrutto in battaglia fino alla fine del turno successivo a questa di attivata. Poi scartate uno specialare della deck e questa fa guadagnare 300 attacco di difesa al mostro a cui è attaccata per ogni carta che ha come materiale. Limitarla a uno è stato giusto, devo definire giusto perché il mazzo era comunque più debole di altri mazzi che sono stati trattati in banalist, ma se c'era qualcosa da hittare forse era questo, è stato giusto questo. Non dovevo anitrarlo, però vabbè. My friend, la ufficialmente carta più forte del mazzo. Ma che c'è 3 points, arrivai lì 3 carte Pureri dal deck e ne viene scelta una a caso da aggiungervi alla mano. E quando un mostro esiste Pureri lascia il terreno, per colpa del vostro avversario, sottolineo, importante, potrete prendere 3 magie rapide Pureri, telefono, con nome diverso e riaddarvela alla mano. La cimitero, è forte questo, non deve fare altro, è già forte così. 2 perdere da terreno, con il diritto da terreno non si giocava, adesso tocca giocarla. Questa è la cosa che vi addate di Lili, hanno detto che Lili ha da... Proprio qua non ho detto le cose di Lili, vabbè. E questa è la cosa che vi date di Lili, se non potete darvi la continua. Ovviamente continua prima, questa poi, questa... Allora, i vostri mostri Pureri che sono stati evocati durante questo turno non sono targettabili da effetti di carte. Quando un mostro esiste Pureri lascia il terreno specialato e Pureri da decocimitero, l'importante è questa cosa, è mandatorio l'effetto. Vedo un sacco di gente che quando ha 1 e 2 in campo fa effetto 1, effetto 2 per c'è in bloccare questa. Non si può, questo è mandatorio, deve andare prima a questa, c'è poco da fare. E una volta per turno, durante la end phase, potete attaccare una carta Pureri dal deck come materiale, una carta magia rapida, Pureri dal deck come materiale a un XS che avete in campo, un XS Pureri sempre. Mondo per di entrambe le trappole, questa è di apponese, sì, poi arriverà anche quella buona, ancora non sono uscite. Questa da valutare. Ad ora non mi sta dispiacendo, però la vedo abbastanza superflua, si può cattare tranquillamente. Sono delle situazioni in cui è utile, il fatto è che alla fine con l'XS nuovo ve le settate entrambe senza nessun problema, quindi per me è abbastanza gratuita. L'unico problema è se la vedete andando secondo, questa è una rotta di scatole, però il mazzo pusha bene andando secondo 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 me non ha veramente bisogno di levarla. Questa è più forte, ha mani basse. Questa targhetta mostro Pureri, vuol fare letteralmente run cap sopra quel mostro e trasferere di materiale ovviamente, però il mostro che evocate va via durante la end phase del turno successivo, cui l'avete evocato, torna nell'extra. Altro effetto, dal cimitero si bandisce per riaggiungere tre mostri Pureri, cioè per rimischiare nel deck fino a tre mostri Pureri. Questa è un periodo più complicato, in pratica targhettate un mostro, un XS Pureri che controllate, evocate specialmente dal deck un mostro Pureri e ci fate, dal deck, un mostro Pureri e ci fate XS sopra, poi attaccate dal deck a deve essere il mostro che evocate, l'XS che evocate deve essere con lo stesso rank di quello che avete targhettato, quindi letteralmente in stand by phase dopo che avete pescato, perché da come in teoria dovreste avere le cose per pescare, fate questa sul vostro XS 2 e accenate questa e vi fa fare XS e poi attaccate dal deck una magia rapida che aveva il mostro che avete targhettato originariamente come materiale, che è questa di base, è la cosa che la limita di più, il fatto che il mostro che avete targhettato deve avere una magia utile, perché di base quello forte da portare dentro è Beauty, con questa in teoria, a livello puramente teorico con questa volete tirare dentro Beauty, ma non sempre ci riuscite perché non sempre potete avere in mano la magia, questo è il motivo per cui questa è tranquillamente cattabile, la sto provando, è un tentativo, vediamo, le prosperity, perché avere più possibilità di aggiungersi delicious in mano? È forte, non c'è niente da fare, le extra deck per la maggior parte sono fill, tra le rigolette, nel senso le extra deck sono nove mostri di archetipo e un po' di fodder per Zeus, questo è per aggiungersi delicious, per il resto un mazzo non ne ha bisogno, due TTT, che se ubicate più di un HT il mazzo rischia di soffrire, non è detto, con una mano decente passate sopra anche a due HT tranquillamente, però se avete queste in mano e vi tirano un HT voi ridete, bello ridere, avanti con le HT nostre, 3 Murner, troppi mazzi che fanno cose in draw, Valer lo gioco, ma meno, normalmente fare il contrario, normalmente fare 2 di questa e 3 di Valer in questo caso sto facendo 2 Valer e 3 di questa, perché appunto questa colpisce bene Runic e c'è bisogno di colpire Runic. Comunque, 3 Murner e 2 Valer, 3 Murner e 2 Valer vanno a fare di contorno per il buon Zeus, pochissimi mazzi riescono a reggere, Imperma, Valer, Murner e... sì, Zeus, Nibiru. Pochissimi mazzi riescono a reggere Imperma, Valer e... o Murner e poi Nibiru. È veramente difficile, tanti mazzi, vedi ad esempio Sprite, lo può fare, ma deve giocare specificamente per farlo, perché se è andata a negare Gigantic, poi schiaffate Nibiru in faccia che è una cosa finta, l'unico modo è avere Gigantic e Red in campo, ma non è detto che ci riescano, o comunque potete tirarlo prima, spesso e volentieri. Comunque vi fate un Marecani se ce l'avete entrambe. 3 Ashe, Ashe, non c'è molto da dire, bella Ashe, per Droll, perché è l'unica ht effettivamente impattante che c'era ancora da mettere, è... Droll è forte, niente da dire. Potrei giocare 2 di lui e 3 Nibiru, è ancora molto nell'area la cosa, perché tanto ancora... 2 ancora non è uscito al momento della registrazione di questo video, quindi... Però ancora ripetendo sui rati e sulle possibilità, bisogna vedere come sarà il formato poi. Per l'extra, un Plump, a volte ho sentito il bisogno di giocare il secondo, per ora ne giocherò uno, potrei fare spazio in extra per giocare il secondo, non sarebbe un problema. 2 happiness, questo andando secondo è una bestia di satana, questo coso rompe le borda sole, è una cosa finta, fortissimo, completamente nonsense. Questo coso ogni volta che combatte... Allora, la sua, innanzitutto, stiamo col presupposto, no? Non conosce il mazzo, potrebbe avere bisogno di questa spiegazione. Questa magia corrisponde, ti fa evocare lui, questa magia fa evocare lui, questa magia fa evocare lui, questa magia fa evocare lui. Stiamo al presupposto che le magie sono così, queste fanno evocare... Questa fanno evocare questo, questa questo, questa questa e questa questo. Fandoli, quando le targettate con quegli effetti di purely, purely, lì, lì. Beauty, questo coso fa impermanence. Hanno effetti bonus se hanno la loro magia equipaggiata, cioè attaccata con il materiale. Questo fa impermanence normalmente, se ha questa attaccata lo fa rapido. Il motivo per cui dico che la trappola a volte non è utile perché lui deve avere questa per farlo rapido, l'impermanence altrimenti non lo può fare. Quando gli viene attaccato un materiale puoi cambiare la posizione di un mostro in campo. È, penso, l'effetto meno utile di tutti quanti in assoluto. Plump, a effetto rapido se ha questa qui attaccata si può attaccare due magie o trappole dai cimiteri con i materiali. Quando si attacca, tutti quanti hanno l'effetto di attaccarsi una magia rapida in cina quando la magia viene attivata. E' tipo magia, effetto, se l'attacca con il materiale. E l'effetto di questo è di bandire un mostro sul terreno fino alla end phase, senza l'argettare. Ovviamente ai tempi lui si usava per fare noir praticamente sempre, adesso essendo limitata a questa... Se poi lo fai, se no no. Happiness, ogni volta che combatte può dare una carta più rile a darca alla mano. E poi se ha questa attaccata con il materiale puoi dimezzare l'attacco di un mostro in campo. Quando si attacca una magia perché viene attivata una magia e se l'attacca, rimbalza una magia trappola, senza l'argettare. Quello nuovo, per fortuna che è uscito. Su summon, scarti uno, fai tornare una carta dal terreno alla mano, due se acqua è stata attaccata con il materiale. E quando gli viene attaccata magia sotto, setta una trappola da deck. Per questo dico che se tu riesci a fare lui e hai altre due magie in mano, sette entrambe le trappole. Non è assolutamente un non problema giocare la seconda trappola. Renoir, il tizio grosso, quello che avrei dovuto prendere con il lector. Questo cosa si può fare sopra un Isis Purely che ha 5 più materiali, oppure con la trappola. Finché ha 5 più materiali è una effected dagli effetti attivati. Tutto i linei è attivati, perché in realtà è una cosa che dà molto fastidio, però in molti casi cambia veramente poco. Questo cosa si ha un Purely come materiale. Ha effetto rapido, può staccare due per rimettere una carta sul terreno o nel cimitero in fondo al mazzo. Principe, Spiritella, Silvana, Princess Sprite. Questa cosa è un Isis 1 ovviamente perché tutti i Purely sono livello 1. Stacchio materiali, guardi la prima carta del mazzo. Se hai una magia o una trappola, te la aggiungi alla mano, altrimenti la mandi al cimitero. Il secondo effetto è rilevante. Questa ti fa un più 1 se hai body rat, rimasti in campo a caso. Zeus, 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 perché Zeus. Ogni tanto capita di lasciare un Purely a caso in campo quando capita l'inquilipo. Adalea, ogni tanto capita di lasciare due Purely a caso in campo. Non la fai comunque andando primo, la fai andando secondo. Aiuta a vorbreccare, anche perché spesso e volentieri le magie ce le hai al cimitero quando la tiri. E va bene ragazzi, il video finisce qua. Spero come sempre vi sia piaciuto e fatemi sapere qua sotto con un commento cosa le pensate di Purely post-Dun. Monterete? Tornerà a essere meta? DUNE. DUNE. DUNE è Darkneo Storm. Eh, DUNE. 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 DUNE parte 2. DUNE è una trilogia, quindi sarebbe anche dopo parte 3. DUNE è di sabbia, quindi è caldo. State mesi e noi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video. Ciao a tutti.